E anche oggi ho fatto la mia parte, vorrei condividere questa cosa con i miei amici. Ragazzi stamattina sono andata a donare, che mi dite la prossima volta di venire anche voi? Sì, spostare dai vediamo, è molto facile, vedremo, vi ricordate la festa di Luca di sabato prossimo? No, è a tema, ma io non ho idea di cosa mi metterò addosso, voi avete guardato già qualcosa? Non lo so, non saprei ancora. Non è possibile che ogni volta sia così, devo riuscire a convincerli in qualche modo, ma come? Eccola! Buongiorno! Buongiorno! Ho una piccola idea, a lui le piacerebbe partecipare? Sì, va bene! Grazie! Prego! Grazie! Lavora a tutti! E pario! Damme lo capo, dalle, damme lo tacito, dalle, damme lo capo, dalle, damme lo tacito Oh hai visto il video di Adele che figata? Sì l'ho visto, proprio figo Potremmo andare anche noi a donare, cosa dici? Ma sai che quasi quasi mi ha convinto? Perché no?